Buone notizie per il centrodestra. Il tempo, sono passati cento giorni dall'insediamento del governo Meloni, non scalfisce le forze al suo interno. Nonostante un piccolo calo per Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, è ancora in testa al sondaggio di SWG. A confermarlo Enrico Mentana, direttore del TGLA 7. Nell'edizione di lunedì 30 gennaio, Mentana svela i numeri. FDI passa in una settimana dal 30,8 al 30,4%. Segue il Movimento 5 Stelle che invece cresce del più 0,4%, dal 17,4 al 17,8. Terzo posto ancora per il Partito Democratico che non sembra riprendersi dalla batosta delle elezioni, anche se registra un piccolo balzo, più 0,2, con i DEM fermi al 14,2%. Buone notizie per Matteo Salvini. La Lega si riprende e segna un più 0,5, passando in sette giorni dall'8,5 al 9%. E ancora, rimane invariata la coalizione di azione Italia Viva. La forza politica di Carlo Calenda e Matteo Renzi raggiunge l'8,2% e rimane stabile nella sua posizione. Poco più sotto. Ecco Forza Italia. Silvio Berlusconi e gli azzurri arrivano al 6,8%, lasciandosi alle spalle un 6,6. Fanalini di Coda Verdi e Sinistra Italiana, dal 3,8 al 3,6, e più Europa, dal 3,1 al 3,2. I numeri di Mentana confermano dunque un trend positivo per il governo e tutto il centrodestra. Nonostante, poi, la piccola crescita, idem sono ancora in affanno con il giornalista che non può fare a meno di non ricordare la scoppola per il partito. D'altronde alle elezioni ha perso non pochi consensi. D'altronde alle elezioni ha perso non pochi consensi. D'altronde alle elezioni ha perso non pochi consensi. Grazie a tutti.